Buonasera a tutti, ci scusiamo per il ritardo con cui iniziamo l'incontro di oggi, ma è stato necessario per attendere che entrambi i relatori fossero presenti. Non perdo tempo in convenevoli e quindi do il benvenuto ai nostri ragazzi delle nostre scuole a cui ho già anticipato che devono stare attentissimi e preparare delle domande perché questa volta il dibattito sarà essenzialmente riservato a loro. Ringrazio ovviamente tutti gli altri presenti e questa volta l'intervento sarà ripreso da Liberi TV e quindi poi sarà disponibile nei prossimi giorni online. Do subito la parola ai due relatori che presento brevemente, il professor Cesare Pinelli, sono entrambi come al solito docenti di diritto costituzionale dell'Università di Roma 3 e dell'Università di Roma 1. Il professor Pinelli introdurrà il dibattito che questa volta affronta proprio il tema, forse più caldo in questo momento, che è il processo di revisione costituzionale e referendum. Daremo così in modo e tempo al professor Massimo Siglari di riprendere il fiato sopra la punza e quindi poi il professor Siglari farà il suo intervento. Come al solito i due docenti rappresentano due visioni diverse perché nelle tematiche che sono di più scottante attualità e che si prestano a interpretazione controversa abbiamo invitato, volendo essere imparziali, due costituzionalisti che rappresentano le due facce della medaglia. Questa volta non vi dico quali sono le due facce, vediamo se da soli i professori saranno in grado di farvelo capire. Prego professore, grazie. Grazie, io... Allora, buonasera a tutti. Io farò un intervento breve perché secondo me è meglio per quanto abbiamo questo residuo di pure, credo che converrà con me. Abbiamo davanti una platea interessata e è bene che ci siano delle domande e che si sviluppi soprattutto questo aspetto, però probabilmente potrò intervenire successivamente. Allora, mi sembra che questo tema abbia a che fare, soprattutto con una questione che, appunto, lei diceva prima, il tema caldo, no? In che senso è caldo? Allora, formalmente è stato approvato, è stato approvato il testo di revisione costituzionale secondo uno dei due procedimenti previsti dall'art.138 della Costituzione. Il primo prevede, tutti e due prevedono due letture, due deliberazioni a distanza di tre mesi della Camera e del Senato sullo stesso testo. Una prevede che in seconda deliberazione, se si raggiungono i due terzi alla Camera e del Senato, la legge costituzionale sia per approvata. Se invece, lo dico a chi non lo sanno, ovviamente, a chi non lo sanno, però, insomma, per cominciare a farlo correttamente, se invece, se non si raggiunge neanche la maggioranza assoluta alla Camera o al Senato decade, se si raggiunge la maggioranza assoluta in entrambe le Camere, il testo viene pubblicato in gazzetta ufficiale e entro tre mesi dalla pubblicazione certi soggetti, 500 elettori, 5 consigli regionali o 5 membri di ciascuna Camera, possono proporre referendum costituzionale. Referendum costituzionale che differisce dal referendo abrogativo per il fatto che non è richiesto un quorum di partecipazione, quindi non è necessario che vada a votare il 50% o più degli elettori alla Camera dei Deputati come invece richiesto per il referendum abrogativo e questo dimostra, secondo molti studiosi, la natura oppositiva del referendum, cioè è una garanzia per le ignoranze che il Costituente ha ritenuto non fosse necessaria nel caso, nell'altro caso, perché quando si arrivava ai due terzi, addirittura si arriva a due terzi dei membri della Camera del Senato in seconda deliberazione, si presume che ci sia un consenso tale anche nell'elettorato che non si rende necessario il referendum, questo è più o meno. Fino al 2001, un dato vorrei ricordare a questo proposito che può essere interessante. Fino al 2001 tutte le leggi di divisione costituzionale sono state approvate secondo a maggioranza di due terzi. Dal 2001 questa è la terza volta in cui invece il referendum è stato approvato a maggioranza assoluta e in tutti e tre i casi i soggetti che abbiamo indicato, hanno chiesto il referendum e questa è la terza volta che andremo a votare, un referendum costituzionale. Ci sono state nel frattempo altre leggi costituzionali, una nel 2012, su temi più limitati, in questo caso la legna di bilancio, che sono state approvate a maggioranza delle due terzi. Quindi nei casi delle revisioni limitate ad hoc anche in questi anni si continua a raggiungere la maggioranza elevata delle due terzi. Negli altri non lo si è fatto nel 2001, non nel 2006 e neanche nel 2016. Questo mi sembra come inizio, un'illustrazione, ma questa è un'illustrazione diciamo formale dei dati che ci sono della Costituzione, dell'affluenza, del modo con cui si sono venute, insomma delle maggioranze che si sono avute nelle varie deliberazioni e ci dice poco invece sulla caratteristica che si è assunta, si è assunto, ci è avuta insomma in questo caso, ma con una significativa, con un significativo precedente dell'universo. l'idea è che la legge costituzionale che andremo a votare esprimerrebbe una Costituzione che divide, mentre la Costituzione che noi abbiamo è una Costituzione che unisce. allora io vi dico prima di tutto come vedo un fatto che avverrà sicuramente entro nel 2017, noi celebreremo il settantesimo anniversario della Costituzione e ci potete scommettere, cioè io ci scommetto che non celebreremo tranquillamente questo è il settantesimo anniversario della Costituzione quale che sia il risultato, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. Il risultato che non potrà assolutamente togliere nulla al fatto che questa è una Costituzione che è durata appunto 70 anni, la Costituzione della Repubblica italiana che non ha affatto conosciuto una prima e una seconda Repubblica. È stata sempre la stessa Repubblica, con una differenza costituita dal fatto che dal 1994 in poi sono cambiati gli attori politici. Sicuramente anche il sistema dei partiti ha funzionato diversamente entro certi limiti da prima, ma la Costituzione è rimasta in piedi e la Costituzione è rimasta in piedi, soprattutto perché nel tentativo vero di attacco ai fondamenti della Costituzione che c'era nel momento in cui nel 2006 abbiamo votato un testo nel quale si prevedevano alcune disposizioni sui rapporti fra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica che avrebbero spostato l'equilibrio a favore non solo del Governo ma del Primo Ministro che in particolare poteva, diceva la legge costituzionale, proporre al Presidente della Repubblica di sciogliere le gambe. In realtà era una decisione sua quella di sciogliere le gambe e questo avrebbe, assieme ad altre disposizioni di risparmio, avrebbe trasformato effettivamente una Repubblica parlamentare in quella che Lovoldo lì ha chiamato un premierato assoluto. Allora, effettivamente lì ci trovavamo di fronte a una Costituzione che divideva, cioè a una legge costituzionale che era il preludio di una Costituzione che divideva effettivamente il Paese intorno a questo tema, alla prevalenza della maggioranza parlamentare e soprattutto del suo preludio. Allora, questa era la situazione all'epoca. Perché abbiamo superato questo rischio? L'abbiamo superato perché in quel referendum c'è stata una partecipazione superiore alla maggioranza degli eventi di ritorno, il 50% di ritorno. Il 60% di questa maggioranza ha votato no. E inoltre i comportamenti costituzionali che al di là di quello che accadde a referendum prima e dopo il referendum relativo ai rapporti fra governo, il Presidente del Consiglio in particolare e il Presidente della Repubblica, governo e magistratura, ci fu anche un disegno di legge costituzionale di modifica delle norme sulla magistratura, tra le altre cose. Governo e Corte Costituzionale, tutti questi rapporti sono stati tali da rinsaldare la democrazia costituzionale del nostro Paese. E quindi ci siamo trovati oggi con questo tesoro. Cioè noi abbiamo fatto un'esperienza in questi anni, un'esperienza di tenuta della Repubblica come immaginata dalla Costituzione del 1940. che cosa abbiamo di fronte oggi invece? Direte, avete parlato troppo del passato. No, è importante. Che cosa abbiamo di fronte oggi? Abbiamo di fronte una legge costituzionale la quale del tema centrale della legge costituzionale del 2006 non dice niente, parliamo della legge costituzionale, non dice niente, non parla dei rapporti governo, parlamento, capo di questo, dice niente di questo. Di che cosa parla? Parla di temi che erano, questo Massimo lo conosce, questo argomento perché già ho fatto, ho sprovinato una settimana fa, ma purtroppo mi deve sopportare. No, no, ma tanto non ho mai convinto una settimana. Eh, è bravo, è bene, figurati se te convincevo. Allora, però, 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 allora lo devo ripetere perché se no, insomma, non funziona il ragionamento. Allora, e solo è un ragionamento che si basa su dati di fatto, poi dopo i dati di fatto non siamo volentati, ma i dati di fatto sono i seguenti. Quali sono le modifiche? non affronta questo. Quali sono le modifiche? Le modifiche riguardano il Senato, principalmente, e le regioni. Allora, nel Senato, della riforma del Senato, si parla non da quando cominciò il discorso sulla governabilità, che poteva essere considerato un tema che calpestava il Parlamento e tutta questa roba. Ma dal momento in cui la Costituzione entra in vigore, perché il Presidente della Commissione per la Costituzione, Meuccio Ruini, nel concludere i lavori della Costituzione dice, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto, diciamo così, il possibile, però adesso non diciamo veramente queste parole, però per farvi capire più o meno a questo, abbiamo fatto il possibile fare la Costituzione migliore di questo mondo, purtroppo abbiamo un Parlamento che è solo due Camere uguali. Non abbiamo potuto fare niente di meglio di questo, perché alla Costituente non trovarono un accordo sulla possibilità che il Senato rappresentasse le autonomie, oppure all'epoca anche le categorie professionali. E quindi nel contrasto fra le opposte opinioni di chi voleva una Camera sola e chi voleva due Camere, una rappresentativa delle autonomie o delle categorie professionali e l'altra la Camera come adesso, si scelse questa strada del bicameralismo paritario, cioè due Camere che sono elette allo stesso modo e fanno il stesso modo. Poi ci sono le differenze, gli elettori, però la sostanza è questa. Quindi il dibattito comincia da allora, le prime discussioni e i primi lavori di riforma cominciano nel 1948 e poi la ripresa del tema collegato proprio alle regioni viene avviata nel momento in cui effettivamente le regioni straordinarie vengono approvate, vengono introdotte nel paese, cioè negli anni 70, prima la legge non c'era, la legge in particolare, la legge che aveva un po' concluso in questa fase, il decreto 616 del 77 e Giovanni Galloni e Bressani, un altro democraziano, presentano un disegno di legge costituzionale per un senato che rappresenti le economie nel 1978, quindi prima che cominciasse tutto questo dibattito sulla governabilità. Quanto all'altro grosso tema che è l'altro pilastro della legge costituzionale è quello delle regioni, ma quello delle regioni riforma la legge costituzionale del 2001, mega riforma della Costituzione del 1948 e se proprio vogliamo andare proprio sul semplice, casomai spostando le competenze dalle regioni allo Stato, casomai si riavvicina un po' di più, non di meno alla Costituzione del 1948. Dopodiché che ci abbiamo? La soppressione delle province, i referendum che vengono incentivati, perché si mantiene fermo il referendum abrogativo e si prevede che se si raggiungono 800.000 firme il quorum per il referendum abrogativo si abbassa ai risultati delle ultime elezioni al 50% più di coloro che sono andati a votare le ultime elezioni, quindi è un incoraggiamento. Questa è la situazione. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando in realtà di un altro tema che è la legge elettorale, è il famoso combinato disposto, ma questo combinato disposto a mio avviso non sta nel cielo in terra. Primo, stiamo parlando di un combinato disposto fra una legge costituzionale che si presume abbia una durata come quella delle leggi costituzionali, anche perché è molto difficile modificare tra le altre cose, e una legge ordinaria che come tale può essere modificata con una maggioranza molto più semplice. Ma soprattutto stiamo parlando di una legge è che più precaria non si può, è una specie di cronaca di morte annunciata, perché noi abbiamo già, è sottoposta sicuramente a gennaio a giudizio di legittimità costituzionale della Corte, e poi tutte le forze politiche stanno dicendo che la vogliamo cambiare, quindi non mi sembra che l'idea che la legge elettorale, prevedendo una maggioranza certa, diciamo così, alla Camera dei Deputati per il Governo, possa essere messa a confronto con la legge costituzionale che ho però sinteticamente illustrata, non mi sembra proprio, tanto più perché si tratta di una legge costituzionale che potrebbe funzionare tranquillamente con qualsiasi legge elettorale per la Camera. È ovvio riguardo al Senato, riguardo alle Regioni e quindi se per esempio si prevedesse una legge completamente proporzionale alla Camera, questa legge costituzionale potrebbe funzionare tranquillamente, non ci sarebbe nessun problema. Quindi mi pare che il rischio, per concludere, di una costituzione che divide è un rischio davvero molto molto basato su una idea di una cospirazione di qualcuno che cospira. L'uomo solo a comando, ma dove sta a suo occhio a comando? Siamo in un mondo nel quale abbiamo l'Unione Europea, le Regioni, a corte costituzionale, la magistratura indipendente, il Presidente della Repubblica, ma questo uomo solo a comando, ma dove sta? Io non lo vedo questo uomo solo a comando, francamente non lo vedo, non adesso, non lo vedo nel futuro, anche se passasse l'italicum, l'uomo solo a comando non c'è semplicemente, non ci sarà, perché se ci fosse incontrere i dettagli e tanti di quegli ostacoli, come si è dimostrato quando davvero c'era qualcuno che voleva stare solo a comando e l'abbiamo dimostrato che non ce l'ha fatta, che non ce l'ha fatta a fare il loro solo a comando. Ho finito. Ringraziamo il Professor Pinelli per l'intervento e passiamo subito la parola al Professor Siglari che affronterà un medesimo tema. Pregando gli studenti di essere particolarmente attenti. Allora, qui siamo partiti da una ricostruzione storica, però ricostruzione di storia degli ultimi 70 anni quasi, però come per le norme giuridiche neanche dei fatti si può dare una interpretazione unicoca, se no non esisterebbe la storiografia. Per esempio, non è vero, scusa Cesare, diceva una cosa sbagliata sotto un certo punto di vista meuccio e ruine nel concupere i lavori della Costituzione, della Senda Costituente, perché forse erano uguali le due camere, ma non del tutto, il fatto di essere elettive, punto, perché le camere, come tu ricordi meglio di me, originariamente dovevano avere una durata differente e dovevano avere una durata differente perché si riteneva che l'una dovesse essere il seno dell'altra, cioè uno che si è venuto curare 5 anni e l'altra 6. Poi ci si accorse già allora che il processo politico era complicato da gestire con un contesto del genere e si pensò unificando la data di elezione delle camere, prima attraverso lo scelgimento anticipato del Senato che venne effettuato sia nel 1953, sia nel 1958, sia nel 1963, perché fino al 1963 sulla carta costituzionale c'era scritto che il mandato del Senato fosse di 6 anni. E perché doveva essere di 6 anni? Perché nell'idea dei Costituenti, frettanti, contrapesi, c'era quella che l'una camera dovesse essere il contatto dell'altra e non dovesse necessariamente avere la stessa maggioranza. Ora, detto questo, si capisce che poi insomma ci sia stata una unificazione proprio per agevolare il processo di governo, per consentire che ci fossero due camere che avessero una composizione, per così dire, omogenea, che è stata sufficientemente garantita finché c'è stato il sistema corruzionale, ma che non è stata altrettanto sufficientemente garantita con le due leggi che si sono avvicendate, cioè il cosiddetto Mattarellum e la cosiddetta che si sono avvicinata, perché già nella prima prova che tiene il Mattarellum, probabilmente per la composizione del quale non ci fu un perfetto ordinamento delle due camere, ma al Senato ci fu sostanziale pareggio, ci fu un passaggio di qualche senatore da una parte all'altra, che si cominciò a manifestarsi con l'elezione del Presidente del Senato e che poi successivamente si consuetò un pochino per qualche altro passaggio, ma poi quella fu una risultatura che durò molto poco tempo. La cosa con cui condivido perfettamente con il Professor Minelli è che non ci sia, che siano cambiati soggetti soprattutto a far corso del 1994, nel 1994 si è consolidata fortemente questa, e sono andati anche successivamente cambiando, mutando. Però ci sono state due fasi di internazione della Corte Costituzionale e negli ultimi vent'anni, sicuramente grazie alla modificazione delle leggi elettorali, si sono rifiutati una serie di fatti che si possono sintetizzare per quanto riguarda i rapporti tra Parlamento e governo con le parole che ha utilizzato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, qualche giorno fa. Ho visto il Parlamento ridotto a uno straccio, venivano da me parlamentari, delle opposizioni, a lamentare che il Parlamento fosse ridotto a uno straccio. E questa è una cosa grave. è in grado, è in grado questa legge costituzionale da risollevare il Parlamento dalla condizione di straccio a cui era rivolta, è in grado la riforma costituzionale di garantire la funzionalità delle istituzioni senza avere i principi di rappresentanza, cioè in grado di fare quello che promette di fare la legge costituzionale nel suo titolo. Si supera sicuramente il bicameralismo paritario, ma non si supera il bicameralismo e non lo si fa diventare completamente non paritario che per quanto riguarda, salvo la fiducia al governo, sulla quale torno subito, perché è stato uno strumento la fiducia al governo per ridurre il Parlamento allo straccio. La disciplina della fiducia che troviamo nella Carta Costituzionale è che qualcuno definisce una debole forma di razionalizzazione della fiducia, cioè che limita al quarto, ma non eccessivamente, il potere del Parlamento di condizionare la vita del governo, trova due regole fondamentali. Una, nel fatto che la fiducia potrà essere votata all'inizio dell'operato del governo, non si intende tolta dal governo ogni qual volta il Parlamento rigetti una iniziativa governativa. Questa è una dubbice garanzia, è una dubbice garanzia. Da un lato per il governo, di non veder messa in discussione in ogni momento la propria legittimazione, perché il Parlamento vota contro l'iniziativa. Da un lato di autonomia del Parlamento, di possibilità effettiva del Parlamento di condizionare la vita del governo. Seconda garanzia che è prevista a proposito della fiducia, la mozione di fiducia non può essere presentata, diciamo, in maniera estemporanea. Deve essere presentata qualche giorno prima, deve essere presentata un certo numero di deputati e deve essere votata per appello nominale. Quindi non si presta ad imboscate. Secondo la Costituzione, la fiducia il governo la dovrebbe richiedere al momento successivo in cui è stato nominato dal Presidente della Repubblica per vedere se corrisponde alla volontà del Parlamento avere un certo governo e attraverso questo alla volontà dei cittadini che hanno espresso un certo Parlamento. La Costituzione non parla mai del fatto che il governo deve aprire la fiducia. ora quindi la fiducia si è trasformata da uno strumento utilizzabile limitatamente da parte del Parlamento in uno strumento completo nelle mani del governo, questo attraverso i regolamenti parlamentari, attraverso la massima parlamentare, attraverso la condizionazione dei parlamenti, fino ad arrivare alla situazione attuale per cui il procedimento legislativo è condizionato fortemente, cioè quella che è la tipica funzione dei parlamenti di fare le leggi è condizionato fortemente dal governo che pone la fiducia sui decreti di legge, nel procedimento legislativo sui massimendamenti o sugli emendamenti semplici, qualche volta probabilmente sui massimendamenti che si mettono sugli emendamenti. Attenzione, il massimendamento è un testo con cui si cambia parzialmente o totalmente quello che ha già deliberato il Parlamento. La Costituzione dice che la legge va approvata articolo per articolo se si pone un massimendamento o si vota contro la legge, cioè viene tagliata la discussione sul testo del senso di legge. Poi ci sono le proposte iniziativa necessarie del governo, trattati internazionali, appunto conversione delle leggi, leggi di bilancio. Attraverso questi mutamenti che guardate non confliggono completamente con il senso della Costituzione del 48, si è arrivato a un'eterogenesi dei fini come si dice, cioè si è arrivati a porre attraverso la fiducia, attraverso la presenza del vario modo del Parlamento, una alterazione, quella che è la Corte Costituzionale, nella cittadinanza 360 del 1996, redatta da un collega, pensiamo di noi che entrambi ben conosciamo, che è il professore Enzochelli, già vicepresidente della Corte Costituzionale, che è uno dei giuristi che non ha pensato si dovesse sostenere questo disegno di legge di riforma, detto che c'è un'alterazione tale da incidere sulla forma di governo. Ecco, questa modifica costituzionale che cosa fa contro queste prassi, contro questa presenza ingombrante del governo? Niente, 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 niente perché non si dice da nessuna parte che il governo non possa porre la fiducia, non si dice da nessuna parte che non possa mettere i maxi vendamenti, non solo, ma consente al governo attraverso il voto della data certa, di trovare un altro strumento di costituzione della volontà parlamentare. Ora, io non ho parlato di legge elettorale e non ne sto parlando perché questo sistema, a prescindere dalla legge elettorale, che si è introdotto, non modifica quelle che sono le situazioni di criticità del nostro sistema costituzionale, del nostro modo di procurare le leggi. A noi non serve, ammesso che poi ci riesca questo nuovo procedimento, questi nuovi procedimenti a seconda di chi legge, comunque queste nuove modalità stabilite dalla Costituzione che servirebbero a accelerare il procedimento legislativo, è una cosa che è di scarsissima utilità in un contesto in cui c'è il decreto legge, ci sta il voto per commissioni e così via, per cui ci sono già in cui i tempi medi, qualche tempo fa io avevo fatto una certa cifra, sono stato corretto, mi hanno detto circa 170 giorni, 170 giorni in media per approvare la legge significa che una legge in media è approvata ogni sei mesi e quindi se ci sarà una legge che viene approvata nell'arco di un anno ce ne saranno altre 11 che saranno approvate in un mese. Adesso senza stare a fare tutte le varie ipotesi perché poi con i numeri mi confondo, ho fatto giurisprudenza perché la matematica lo davvero molto e per fortuna non sono riuscito a farne a meno e mi hanno sempre annoiato come costituzionista i sistemi elettorali perché sono roba più da matematici e tant'è vero che uno dei sistemi elettorali che è stato usato per anni in Italia, il cosiddetto metodo don, non era stato frutto di un giurista o di un politologo come adesso invece, che adesso si mettono insieme e fanno i sassi qualche volta, ma invece era un matematico e consentiva la proporzionalità del sistema. Ora senza arrivare a una proporzionalità pura, ci sono tanti strumenti termini che senza dare premi di maggioranza che poi sono malamente premi di maggioranza, non sono premi di maggioranza per consolidarla, qualcuno che abbia già la maggioranza, ma sono premi alla minoranza più consistente e che questi sì, appunto, stavolvano esso uguali, forse c'è stata troppa acquiescenza sulla base di una serie di slogan che si ripena da vent'anni, il sindaco d'Italia, queste bestialità perché una cosa sono i comuni, una cosa sono i grossi comuni e una cosa sono i piccoli comuni. Il governo fatto la sera stessa delle elezioni, altre grosse bestialità che sono democrazie funzionantissime e con milioni del nostro che il governo fanno fra tre mesi e due anni, parlo della Germania e parlo del Belgio, senza che questo tocchi sensibilmente. Allora questo rapporto di unicocità fa efficienza, presunta efficienza legislativa che sarebbe introdotta e garanzia dell'elettore che ha presunta sicurezza nella formazione dei governi, invece finisce per non dare voce ai cittadini, ma per allontanarli sempre di più dalla partecipazione, perché la democrazia non è cosa che si consumi in un giorno e mettendo una scheda in un'una. È un passaggio essenziale, fondamentale, però non è questa la democrazia. Né mi si dica che si sono violati con questo disegno, rilegge, gli strumenti di democrazia partecipativa, perché in realtà pure lì con il referendum che è abrogativo, che ha avuto più di 800.000 firme e quindi è avuta sulla base di un corpo consolidato che lo propone e lo sostiene. Si possa far passare l'abrogazione con una minoranza qualificata di cittadini, abbonendo il quorum richiesto attualmente. Non mi si dica che ci sarà più efficace l'iniziativa legislativa, perché sarà più difficile proporla e perché la presa in considerazione non ha nessuna assicurazione di approvazione della legge. Il fatto che debba liberare il Parlamento, se lo farà, non lo metterà nell'ordine del giorno e poi lo ritarderà si le die per poi dire lì no. Oppure facciamo un'altra cosa, oppure lo dirà altri disegni di legge. Come succede adesso, talvolta, ci sono state anche iniziative legislative che sono conflite. Insomma, sotto un certo punto di vista non c'è niente di nuovo. Sotto un altro punto di vista c'è molto che rende più complicati certi processi decisionali. Sotto altri punti di vista, ma su questo non mi soffermo perché forse devo passare la palla al mio collega, ci sono degli spiriti, ci tornerò dopo, spacciati più di una volta per garanzie, ma che danni non sono. Grazie. Non credo sia stato difficile capire... Deve spegnere il subito. No, sì, no. Ah, forse ci vorrà un'altra decisione. Capito che è un decisionismo, ecco? Eh, infatti, ecco, ci vuole decisionismo politico in questo caso. Non credo sia stato molto difficile individuare da quale pulpito venissero le prediche. Il professor Sigrani ha già implicitamente avanzato quella che era una richiesta che era venuta dal professor Pinelli di avere un piccolo momento di replica. Nel frattempo si preparano gli studenti che devono porre ai nostri relatori e i loro visiti. Grazie. Grazie. Ma sono uguali. Non le si può dire. 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 No, allora, io vorrei soltanto porre una domanda, e quindi sono veramente cinque minuti stavolta. Perché il Presidente napolitano ha detto che sono venuti da lui parlamentari dell'opposizione a lamentarsi, a dire che il Parlamento è venuto da uno straccio. Sono andati da lui a dire questo perché il Governo molto spesso pone la questione di fiducia in un modo tale da bloccare il libero procedimento legislativo. Questa è la cosa che mi sembra che veniva fuori anche da quello che aveva detto. Ora, perché avviene questo? Perché il Governo pone la questione di fiducia? Qui noi possiamo dare due risposte a seconda che riteniamo che ci troviamo in un sistema in cui il Parlamento è opposto al Governo perché il Governo ha una legittimazione propria, distinta dal Parlamento, d'accordo? E quindi c'è questo conflitto, il Governo esprime una legittimazione diversa e ha la forza per imporsi sul Parlamento. C'è una questione di rapporti di forza fra due istituzioni che sono l'una contro l'altra armate. se non che si dà il caso che il nostro è un Governo parlamentare in cui appunto il Governo deve avere la fiducia delle due camere fino adesso. E allora, se così è, dobbiamo forse porci un'altra domanda, la ragione per la quale il Governo pone così spesso la questione di fiducia rimanda a come si formano le leggi nel nostro Parlamento. Abbiamo una bellissima disposizione, la funzione legislativa esercitata collettivamente da le due camere e tutti i giornali dicono ma di fronte a questa bellissima disposizione adesso sarà sconvolta perché ci sono sette comini eccetera eccetera. Allora, prima di parlare di questa complicazione dobbiamo chiederci com'è adesso la situazione. Cioè è questa bellissima disposizione in grado di garantire un procedimento altrettanto funzionante? La risposta è no. E la risposta è no proprio perché abbiamo un bicameralismo nel quale necessariamente siccome la Camera e il Senato sono elette allo stesso modo e svolgono le stesse funzioni anche e soprattutto in riferimento alla definizione legislativa è inevitabile che le leggi vengano approvate con lo stesso testo e per approvare lo stesso testo ogni legge deve fare l'anavetta fra una Camera e l'altra fino a quando non si raggiunge lo stesso testo. Se il Senato modifica una virgola la Camera deve approvare questa modifica e viceversa. Allora, ma è inevitabile, fino a quando ci saranno due Camere uguali questo è coessenziale, cioè non si può togliere questa cosa. Ma che cosa succede? Questo determina una grossa difficoltà nei lavori parlamentari, che si aggiunge ai regolamenti parlamentari e spiega che cosa? Il ricorso indiscriminato ai decreti legge, perché i decreti legge, altrimenti noi non li possiamo spiegare perché i decreti legge che in Italia sono previsti solo in casi straordinari di necessità di urgenza cioè solo quando c'è un terremoto, una calamità naturale o una crisi finanziaria, una volta ogni sei mesi grazie a Dio forse pure di meno, si fanno in continuazione. Ma perché? Perché questo avviene in Italia e non in altri paesi? Per quale ragione? Anche perché non c'è neanche, ha maggior ragione, non c'è neanche il decreto legge, in molti qua dove c'è è preservato nei suoi confini. In Italia è diventato uno strumento normale di legge, perché ci sarà una ragione o perché il governo è cattivo, tutti i governi, tutti da 30 anni a questa parte, tutti cattivi contro il Parlamento, che lo vuole guardare perché il governo vuole esprimere la forza, ma di chi stiamo a parlare? Il governo esprima la maggioranza parlamentare, è stretto con la maggioranza parlamentare e conseguentemente nella formazione di questi decreti legge, che come sapete devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, il Parlamento ha accettato da moltissimi decenni, non stiamo parlando degli ultimi decenni, ma da moltissimi decenni, che cosa ha accettato? In cambio però io faccio degli emendamenti, cioè delle modifiche nella legge di conversione, tanto è vero che fino agli anni 60 i costituzionalisti dicono no, gli emendamenti non si possono fare, perché il decreto legge è un atto che rende, la legge di conversione rende invalido un atto viziato, che è il decreto legge, questa versione è sparita dalla circolazione, è mica perché è sbagliata, assolutamente no, perché è cambiata proprio la fisionomia del decreto legge nel nostro sistema con ricorso agli emendamenti. Conseguenza ulteriore, benissimo, il Parlamento propone emendamenti e questi emendamenti vengono approvati, quando superano un certo limite, soprattutto nella discussione, che può succedere, può succedere che non si rispettano i 60 giorni, a quel punto proprio perché dal 1996 la Corte ha detto che questi decreti non si possono reiterare, a un certo punto il governo che fa, raduna tutti questi emendamenti in un massimo emendamento con un articolo unico e su questi pone la questione di fiducia, ecco la questione di fiducia, oppure nel caso delle le leggi finanziarie, a un altro termine che è il 31 dicembre di ogni anno, anche lì abbiamo lo stesso risultato, un articolo con 800 commi, queste sono le complicazioni, sono una procedura incostituzionali e che complicano la vita di tutti i giorni, di noi tutti, compresi noi, perché un conto è avere una legge, voi capite subito, una legge che contiene 40 articoli con i loro bravi titoletti e ognuno riesce a capire di che si tratta, sono poche righe ogni articolo, un conto sono 800 commi di un solo articolo, è questa la complicazione grave che conosciamo e che dobbiamo fare il confronto con le complicazioni che saranno introdotte che sono poca cosa, però vorrei aggiungere che non è vero prima di tutto il fatto che la Camera sarà la sola ad approvare le leggi e quindi chiaramente il procedimento si smeglisce per forza per il 97% dei casi, è stato calcolato che le leggi su cui il Senato ha lo stesso potere di approvazione delle leggi della Camera sono una percentuale minima, sono quelle previste dalla Costituzione ma sono molto poche, per tutte le altre il Senato può proporre una modifica, dopodiché se la Camera è d'accordo, benissimo, le approva, altrimenti la prova, la prova, la prova, approva il test originario e quindi è chiaro che in questo modo si riduce moltissimo, non c'è più nessuna davetta possibile da questo punto di vista e quindi in questo modo svuota le ragioni del ricorso al decreto legge, ecco il punto, lo fa in questo modo e lo fa anche impedendo che venga posta la questione di fiducia al Senato perché il Senato su quelle altre leggi il governo non le può porre e questa è una bisogno di garanzia, è giusto che sia così, ci può essere uno Stato, ci sia uno Stato, su che cosa c'è lo Stato? Sulle leggi costituzionali, benissimo, si discuta, sulle leggi costituzionali è meglio che si facciano le lunghe discussioni oppure sulle leggi di attuazione della Costituzione per quanto riguarda le regioni che sono l'altra categoria, sono pochissime, quindi infine il voto a data certa è un voto che può essere posto soltanto su poche, sulle questioni che riguardano l'indirizzo e il programma di governo e svuota anch'esso il decreto legge perché dentro 70 giorni la legge, la Camera deve dire se approva o meno questa legge senza che ricorrano casi di necessità e sugenze e quindi è un altro svuotamento, infine il decreto legge ha dei limiti che sono quelli che sono stati riconosciuti non solo dalla legge dell'88 ma anche dalla Corte Costituzionale, quindi il migliale del cambiamento sia molto consistente rispetto proprio quello introdotto dalla legge costituzionale rispetto alla situazione di oggi. mai credere alla parola di un professore universitario che dice solo 5 minuti, molti di più, adesso adesso lei mi costringe per la novetta a dare questo studente al professor Siglery. ma io non mi prenderò se c'è tempo perché sono curioso di sentire quali curiosità abbiamo suscitato e voglio ricordare una cosa che il professor Pinelli non può non essere presente cioè che sono che dagli anni 80 che la crisi dei partiti è andata approfondendosi, che l'incapacità di dare risposte è andata aumentando e che soprattutto quello che è mancato, che è andato progressivamente mancando, è andato progressivamente mancando, è stata la capacità di una sintesi che riuscisse, politica di indirizzo, che riuscisse a convincere non soltanto gli altri soggetti politici ma anche il proprio soggetto politico al suo interno e questo non cambierà perché io non ho visto nessun serio tentativo salvo quello di verticalizzare i rapporti, di personalizzare le situazioni all'interno dei partiti, non ho visto alcun serio tentativo di rifondazione dei partiti in un senso diverso e di comunità e non di personalità che si avvicendano al suo angolo vertice. Seconda cosa, sempre l'ampo, Cesare, la congruenza con l'indirizzo politico di governo a me ricorda un'altra cosa, l'interesse nazionale che è stato il veicolo per la predominanza e in alcuni casi l'arbitrio fatto legge e che ha condizionato le autonomie regionali nella prima fase della Repubblica. L'interesse nazionale ci poteva rientrare di tutto e con l'indirizzo il programma di governo inevitabilmente e contigua tutto perché deve essere un programma per 5 anni che deve investire tutto l'intervento pubblico in una certa fase e ci potrà rientrare tutto, per cui avere l'idea che il voto a data certa sarà condizionato da espressioni di questo genere, nel tunnel che abbiamo la nella nasa e non ci possiamo fare affidamento su quella che potrebbe essere l'interpreazione della congruenza con l'indirizzo del governo e il programma. Adesso, no, 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 no. Bene, come promesso diamo adesso la parola al pubblico a partire dai nostri ragazzi che prima avevano molta voglia di parlare, quindi adesso è proprio il momento giusto per farlo. Grazie. 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 ma neanche adeguata alla Costituzione, però questa riforma non bisogna risolvere i problemi che si sono posti e i punti dell'età. C'è la Sauda di Tecnici, la Sauda? Allora, se io non sono uno studente da un po' di anni, però... Allora, per LibriTV volevo fare queste due domande, una rispettando un po' la par condizionata. Allora, una al professore, sì Clari, prima ha parlato di eterogenesi dei fini, io volevo appunto osservare che mi sembra che ci sia stata anche un po' un'eterogenesi della fiducia che per quanto sia promossa dall'iniziativa del Governo, comunque è un atto che vede due protagonisti, cioè un attore, diciamo, è dei convenuti, insomma, chi chiede e chi dà questa fiducia. Ecco, io penso che sia anche una sorta di garanzia la fiducia per gli elettori, perché il Governo chiama a una verifica di appoggio più ampio possibile per certi argomenti il Parlamento. Se ci sta questo appoggio, bene, se no, no. Il problema, secondo me, è il secondo atto, cioè quando questa fiducia viene data da chi poi dopo palesemente si dichiara contrario a, cioè da chi fa l'opposizione all'interno della maggioranza. Ecco l'eterogenesi, a questo punto, questo secondo atto mi sembra che sia diventato più da quello che doveva essere una forma di garanzia, una forma di garanzia della poltrona, perché poi dopo probabilmente ci sarebbe il rischio che tale persona o tali personaggi, tra virgolette, o scena veramente l'intervista a Monti di questa mattina, non entrerebbero più in Parlamento neanche come, diciamo, usceni. Ecco, diventa perché allora dare la fiducia a se si è contrari, perché, come dice Monti, è contrari e poi ha votato sì a questo progetto di legge. E questo qua è una domanda che ve lo farà lei. L'altra era il comprensamento della signora, la domanda effettivamente al professor Pinelli, la moltiplicazione dei procedimenti legislativi è molto probabile che dia adito ad una serie di conflitti e quindi in pratica poi alla fine l'iniziativa legislativa finirebbe in mano a un giudice ultimo, sarebbe della Corte Costituzionale, che pur essendo una magistratura non ordinaria, comunque sia in questo Paese mi sembra che la vita dei cittadini e il timone sia ben troppo orientato e governato dalle magistrature di vario tipo, insomma daremo adito anche una spinta ulteriore a che addirittura il procedimento legislativo sia dato in mano a loro, insomma ne siamo un po' troppi. Però c'è questo rischio, insomma così si dì. Grazie, c'è un'infettante piatto. Esatto, io vorrei chiedere al professor Pinelli, perché votare una riforma costituzionale per avviare un processo di felicitazione della discussione in aula degli erenti? Perché questo secondo me è relativo, perché abbiamo visto già in passato che se si vuole fare una cosa e portare la legge avanti non c'è bisogno di riforma costituzionale, ma bisogna avere la volontà di farlo. Una legge Fornello per esempio è stata portata avanti socio consiglio del Presidente dei Consigli dei Ministri e approvata da Camera e Senato in appena 15 giorni e poi abbiamo visto il massaggio che abbiamo fatto. Quindi 15 giorni per approvare la legge senza l'attuale informe costituzionale. Perché? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro punto che voglio dire è che, secondo me, sul Senato, non è stato voluto per velocizzare il passaggio, anche quello, perché non è possibile che solo noi insieme alla Romania e in tutto il mondo abbiamo questo bicameralismo, anche questo mi sembra che siamo... Ma guardi, non è possibile che noi abbiamo il decreto legge come ci abbiamo regolamentato perché ci sono stati dei pochi per molti anni, cioè sta a vedere le cose che abbiamo noi e gli altri, e... E poi un altro, cioè questo è l'aspetto nel senso che è perché si vuole ridurre i costi e perché si vogliono ridurre anche che ripetono il numero delle electroni, nel senso quasi mille, mille passa parlamentari, che è proprio Stati Uniti che per esempio ha 30 volte il nostro territorio e ha la metà dei nostri parlamentari, quindi, cioè, mi sembra, ovvio che sta a questa parte, sì, è anche molto importante la realizzazione delle leggi, però nel senso non è, è un punto minore, il punto di vista è quello di ridurre anche i costi e di ridurre anche le vostre concette del senato. Poi, è un altro aspetto del referendum, è quello delle regioni, nel senso, prima, come è stato approvato, è passato un referendum, cioè che dall'accentrazione del potere sono passati il potere alle varie regioni, quindi ora varie regioni che rispetto al passato avevano più potere e adesso si può rimportare come arriva. Questo non lo vedo come un accettamento del potere, perché? Perché innanzitutto credo che siamo in un paese più simogene al mondo, cioè nel senso che c'è una disparità incredibile tra nord e sud, cioè tra il giorno e la notte, come tra Bolzana, Reggio, Calabria, quindi sembra un po' di due Stati diversi, cioè nel senso, nessuno direbbe che Trentino e Calabria fanno parte dello stesso Stato, io direi no, cioè perché una linea tesorariata nuova in Piemonte, che è il nord, ci mette un mese e in Sicilia o in Calabria ce ne deve mettere cinque, questo è un passato di un mandato, nel senso, perché? Perché se vuoi toccare questo punto? Perché le regioni sono troppo donne e essendo troppo donne hanno troppa disparità. Questo è il persunto, nel senso, non è non avuto come un accettamento del potere, avuto solo nel senso che lo Stato avrà un maggior potere, ma sarà nel senso che darà le varie opportunità per le ragioni quindi davvero più curioso grazie ci sono altri interessanti ci hanno due professori di rispondere io forse ho sbagliato il nome che mi ha chiesto la domanda era a me era ben sbagliato il nome era ben posto era un po' in disordine per quel che mi ricordo innanzitutto i complimenti del giorno che sono individuati da vari punti io sono intervenuto soltanto in un momento quando ha ripetuto una cosa che è diventato uno slogan un mantra ho detto basta con questa storia che siamo l'unico paese ha o che non ha perché questa è la semplificazione della comparazione giuridica che fanno certi colleghi e che io assolutamente rifiuto come rifiuto il professor Pinedi che ho raffinato con la testa seconda cosa secondo me non è la non solo le figurine ce ne mancano no le istituzioni le strutture e ci sono e ci sono molti problemi che purtroppo lo fanno e che influenzano anche certi processi decisionali seconda cosa seconda cosa seconda cosa la signora ci vuole perché la avete parlato noi abbiamo fatto cercando di fare una sentisi però su questo voglio dire una cosa chiara che secondo me sarà condivisa pure la scrittura di nuove regole che articolano le competenze normative sia per quello che riguarda le regioni no sia per quanto riguarda sia per quanto riguarda l'attivazione del modo di fare le leggi di camerare per se stessa produce necessità di una nuova interpretazione perché bisognerà vedere bene nel contesto che cosa succederà è impossibile dire all'origine ci sarà o non ci sarà contenzioso la semplificazione sicuramente non c'è dovrà trovare lo suo assetto è sicuro che su questo tipo di problemi il contenzioso si manterrà a livelli alti se non aumenterà per quanto riguarda le regioni c'è un contenzioso che è veramente non lo conosciamo bene di bandiera lo chiamerei così poniamo il caso è stata ricordata la provincia di Bolziano questo magnifio io ci ho fatto splendide vacanze ma ormai sono tanti anni che non ci vado è un ottimo ricordo della provincia di Bolziano sotto vari punti di vista però guardate che le ferrovie non sono di competenza legionale salvo quelle in concessione che sono molto poche per cui le regioni non cittano niente con le ferrovie però la provincia di Bolziano è molto litigiosa e arriva a porre una questione di costituzionalità pure per farsi dire che una legge nel quale c'è scritto che non si applica alla provincia di Bolziano non si applica alla provincia di Bolziano cioè sono confronti dalla corte costituzionale perché dice se io lascio questa legge così isolata il successivo di senore per la benedizione si applica allora io voglio evitare che me lo dica e allora farò una questione di costituzionalità ogni volta che il legislatore rispetta la competenza della provincia di Bolziano dicendo guardate che cosa si applica a provincia di Bolziano quindi ci sta una litigiosità di bandiera che non scomparirà ci sarà una conflittualità che è inevitabile ogni qualvolta non è che sono scritte bene sono scritte male se le descrivi le competenze vanno a ridefinire e verranno a ridefinire in sede giudiziale perché è uno di quei problemi questi che non si può risolvere completamente in sede politica perché le materie in natura non esistono non sono esattamente separabili da altre quindi per quanto riguarda le competenze si si toccano si intrecciano sono per usare un termine elaborato embricate fra loro e quindi non è capire a chi spetti fare cosa non è sempre così semplice e ovviamente se c'è un po' del all'interno dell'apporto Stato-Regioni questo si riprenda ora io non so cos'altro abbia detto Monti stamattina proprio perché l'ho stato chiamato in ballo proprio io la fiducia su mezzi è tutto questo la fiducia e ha avuto anche una sua ideologia per essere utilizzata per malamente non per indirizzare il governo ma per mantenere la poltrona questa è una forma di ideologia sulla fiducia per cui il Parlamento ha una volta dimostra di non fare quello che deve fare però il Parlamento non è un'identità estratta ci sono due persone ci sono persone che fanno parte ai partiti ci sono secondo me incapacità di sintesi e di razionalizzazione dei rapporti all'interno dei partiti tali che a quel punto ognuno se la vede per conto suo no? come in maniera più forturistica direbbe un certo senatore che spesso viene imitato in tv va bene mi fanno qui ma dunque io prima di tutto vorrei rispondere a lei a proposito della volontà politica i più anziani fra cui chi parla ricordano benissimo che la legge sul finanziamento pubblico dei partiti del 1974 fu approvata e sicuramente ci sono delle leggi che quando c'è una volontà politica compatta nel Parlamento si approvano in poco tempo senza che il bicameralismo sia un ostacolo però sta di fatto che questa volontà politica così compatta e così forte non si manifesta sempre e allora che vengono mai anzi è molto raro che la volontà politica produca questo miracolo è allora che conta molto capire se le leggi devono essere approvate allo stesso modo dalle due camere oppure da una sola ecco il punto cioè le istituzioni contano non conta solo la volontà politica contano contano la volontà politica ma le istituzioni condizionano la volontà politica certamente se ne possono avere migliaia di esempi e le strutture con le quali ci confrontiamo su cui te lo vedo alla fine riguardano tutto tutte le cose di cui stiamo parlando però su questo vorrei dire qualcosa alla fine è importante invece affrontare la questione delle complicazioni del nuovo dei procedimenti i procedimenti che sarebbero introdotti perché allora si potrà dire per essere chiari si passa dalla padella della brace o dalla padella alla padella cioè da un caso in cui abbiamo due camere che devono approvare le leggi allo stesso modo e quindi rendono più difficile il procedimento di formazione legge e quindi ricorso ai legge si passa da questo a una situazione in cui ci sono tanti di quei procedimenti che complicano la vita del Parlamento e addirittura il rischio è che l'unico modo per uscirne è andare alla Corte della Costituzione quindi se mi aveva detto questo allora i procedimenti sono due perché allora di che cosa parliamo quando parliamo di procedimento se noi parliamo di procedimento ogni volta che la Costituzione dice questa legge fermo contestando il procedimento sarà approvata da un ramo del Parlamento a maggioranza assoluta oppure se la Costituzione dice in questo caso il Senato ci deve mettere 15 giorni e non 30 va bene se noi diciamo che basta questo a individuare il procedimento allora i procedimenti ma non è mai avvenuto che nessuno abbia detto una cosa del genere fino adesso perché altrimenti se noi usassimo questo criterio la Costituzione attuale già adesso avrebbe molti procedimenti e molti si sono molti indicati nel corso con le leggi costituzionali almeno due sono stati ulteriori la legge di Amristo e Dulto approvata a maggioranza di due terzi e le leggi sul che è sulla legge di stabilità nella formazione dell'articolo del nuovo dell'articolo 81 che è approvata a maggioranza deve essere approvata a maggioranza ma nessuno si è mai sognato di dire che nessuno tra noi mai se lei era a vedere i testi di diritto costituzionale sono specifiche sì ma è la maggioranza che cambia il procedimento è lo stesso ho idee non sono procedimenti i procedimenti i procedimenti sono un'altra cosa è il procedimento che comincia con una fase struttoria poi c'è una fase decisoria e poi e questo è il procedimento e allora da questo punto di vista i procedimenti sono due non sette come si dice abbastanza ma la fede alla fede perché se fino adesso no ma chiaro che è evidente che a ogni procedimento a ogni fase può corrispondere ad esempio ma sono delle varianti dello stesso procedimento che adesso indicherò brevemente tanto già l'ho detto prima cioè a parte il caso che è quello del bigameralismo paritario che rimane le leggi costituzionali le leggi che attuano i rapporti Stato-Regioni per certi aspetti poi ci sono le altre e per tutte le altre il Senato ha sempre lo stesso potere quello di proporre modifiche alla Camera e la Camera può rifiutare questo questo è il procedimento dopodiché se si dice non ci vuole per quel caso specifico che riguarda la garanzia quindi c'è una spiegazione riguarda la garanzia delle Regioni la Camera deve di approvare a maggioranza assoluta ma è un caso è un caso quello non è un procedimento ma è una variante all'interno del procedimento che rimane fermo cioè il fatto che ci vuole comunque la proposta del Senato la proposta di modifica cioè può esserci una proposta di modifica che la Camera supera quindi è tutto qua come si ma voglio dire quando parliamo di queste cose non introduciamo dei nuovi procedimenti posso aprire una prentesi eh microfono dunque io aprirei una prentesi perché effettivamente c'è pure qualcuno di più di me di carico per esempio il 116 verso Roma e così via però attenzione quello che cambia con questa legge che momento di smisura le norme procedimentali in Costituzione e che finiscono pure per affidare diversità di possibilità di intervento ai veri del Parlamento questo non sarà indifferente per quanto riguarda le possibilità di indirizio di costituzionalità non sarà qualche cosa indifferente e ragazzi poi volevo aggiungere perché me ne è rimasta una cosa appesa ma è collegata con questo è vero che troppo spesso la politica cede il passo alla giustizia e non è la giustizia che si allarga è la politica che cede il passo e quando e sulle cose bisogna decidere poi il giudice non può denegare in qualche modo giustizia se non c'è una soluzione bella e pronta da trovare nell'ordinamento un po' di giudizia la giurisprudenza creativa è indispensabile e guardate che questo come la giurisprudenza creativa che dovrebbe stare a mettere responsabilità civile aspetti aspetti un'altra cosa è questo disegno di legge spazi per l'intervento del giudice lì allarga a cominciare la questione della legge elettorale che per la quale introduce un procedimento che verifica della costituzionalità della legge elettorale prima che questo entri in vigore avvicinando il giudizio della corte al voto delle due camere e quindi politicizzando fortemente il giudizio della corte costituzionale cioè queste scelte non sono indolori e non sono scelte che faccio un esempio e sarà una cosa che potrebbe potrebbe creare grossi problemi grossi disagi per la corte costituzionale come richiederà sicuramente la corte costituzionale per esempio per l'Italia ha fatto benissimo a rinviare il giudizio perché comunque sarebbe andato in giudizio non è detto che si risolvi uno stesso o l'altro si sarebbe posto come un elemento di condizionamento del voto in ogni caso è vero che però ci sono momenti in cui la politica anche attraverso queste cose non condiziona il giudice non lo limita secondo quello che dovrebbe fare una questione ideale ma gli apre praterie sconfinate di responsabilizzare io fermo restando che sono d'accordissimo con il professor Isidra nella votazione di due espresse a proposito della scelta della corte costituzionale di rinviare a gennaio il suo giudizio sull'Italico ma francamente poteva anche risparmiarsi di fissarlo e quattro torpezzo detto fra noi era meglio proprio prima ma insomma comunque alla fine era un po' strano a mare insomma a settembre un po' strannuccio questa cosa comunque allora fermo restando che sono d'accordissimo perché era un giudizio della corte costituzionale che entrava nel mezzo di un procedimento di revisione costituzionale prima che il corpo elettorale si rinunciasse quindi una cosa pasticcio spaventosa non si doveva assolutamente sono raccoltissimo con te su questo per carità però io insisto nel dire che appunto se le norme di procedura sono quelle di cui parlavo prima certo che si sono allargate ma si sono allargate per una conseguenza inevitabile del fatto quasi inevitabile del fatto che la Camera il Senato è differenziato dalla Camera adesso il Senato è differenziato e questa differenziazione se non trova un riconoscimento nelle norme di procedura dove la trova è chiaro che ci sono degli interessi diversi che si compongono proprio quando si tratta di dibattere di questioni che riguardano le regioni visto che il Senato rappresenta le istituzioni territoriali è chiaro che quindi abbiamo una diversificazione io poi per quanto riguarda questi timori di sfracelli ricordo il 2001 quando fu approvato il testo del 2001 ma i nostri colleghi sembrava che si fosse aperte le cateratte tutto alle regioni adesso le regioni c'è chi ironizzò i comuni adesso saranno competenti sulla difesa dello Stato non per dire una cosa assurda ma c'erano degli articoli di fuoco poi si aggiustarono le cose quindi si erano aggiustate ma si erano aggiustate però male perché male qui vengo anche a quello che ha detto il ragazzo cioè per quanto riguarda le regioni lui ha detto non penso che sia un accentramento sostenendo in pratica che in realtà in molti casi noi abbiamo bisogno di far valere un interesse che non è l'interesse dello Stato ma è l'interesse dei cittadini pensate alla sanità no? nella sanità voi avete in questo momento delle diseguaglianze che sono delle diseguaglianze che non riguardano soltanto il fatto che ci sono ricchi e poveri ma ci sono anche delle diseguaglianze territoriali diseguaglianze fra chi vive a Reggio Grande e chi vive a Milano no? questo cosa su perché anche perché le regioni pensano di svolgere la loro autonomia su questo terreno stabilendo dei costi che sono dei costi diversi sulla sanità i costi delle siringhe che sono molto più forti al sud che in alcune regioni del nord eccetera poi c'è il debito allora con questo debito ma quando mai sarà possibile raggiungere quello che la Costituzione dice giustamente è che noi penso vorremmo tutti che la legge dello Stato fissi livelli essenziali livelli di prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali indipendentemente da dove abitiamo cioè su tutto il territorio nazionale questa è una cosa sacrosanta ma per fare sì che ci sia effettivamente la garanzia di eguaglianza fino a quando la sanità che copre il 90% dei bilanci delle regioni italiane il 90% fino a quando la sanità si baserà sul debito il debito per definizione varia da regione a regione quindi l'eguaglianza ce la scordiamo perché c'è la spesa storica che è il premio cioè quello che ha speso la regione l'azienda sanitaria nell'anno precedente siamo andati avanti così per moltissimi anni troppi anni troppi anni questa è una grande struttura cosa fa la legge costituzionale a questo proposito la legge costituzionale dice che sono richiesti dei fabbisogni e costi standard per le in tutte le regioni cioè indipendentemente dalla regione cosa significa questo significa soltanto che si raggiunge una maggiore efficienza no significa che se si arriverà a questo punto e non è facile lo dico innestamente perché io sono sostenitore della riforma però so bene quanto è difficile passare da una situazione di debito in cui bisogna risanare debiti a una situazione in cui si finanzia la sanità secondo un criterio uniforme ma certamente è un criterio di eguaglianza questo non c'è dubbio è un criterio di eguaglianza oltre che efficienza ecco il punto quindi c'è una stortura che viene in prospettiva in prospettiva perché il fabbisogno e i professori sono già in una legge del 2009 poi c'è stata la crisi finanziaria e quindi questa cosa non si è fatta sono passati sette anni la legge del 2009 non è stata accaduta per quanto riguarda la sanità allora è difficile ma certamente su questo punto la legge costituzionale fa sì che il cosiddetto accentramento non sia tale in realtà per un interesse dello Stato contrapposto all'interesse delle regioni ma venga fuori l'interesse dei cittadini ad avere dei fabbisogni ad avere a far rilevare i loro fabbisogni sulla base di un criterio di pereguazione cioè di uguaglianza indipendentemente da dove abitano perché penso che sia abbastanza ovvio che le nostre saluti non differiscono alle nostre salute non differisce a seconda che siamo a Calabria siamo a Milano insomma no? allora questo questo è il punto fondamentale e le altre cose che bisogna dire delle regioni non sono tanto non dobbiamo continuare noi noi in questo caso noi costituzionalisti a basarci soltanto su quello che dice la Corte Costituzionale perché questi sono soltanto una parte degli scorsi cosa fanno le regioni in concreto su temi come le procedure i porti gli aeroporti le infrastrutture cosa fanno? bloccano molto semplice bloccano siccome il loro potere non è un potere di fare da legge perché la Corte Costituzionale che si può dire già li ha tosti su molte cose quindi già c'è un accentramento di fatto quindi la riforma da questo punto di vista non fa che di niente le ha posto delle cose che già la Corte Costituzionale ha fatto ma le regioni mantengono il loro potere di blocco sulle opere pubbliche tante volte ritardano i procedimenti fanno quindi spendere un sacco di soldi ecco il problema che abbiamo lo spreco di denaro pubblico che è continuo allora sono queste le strutture che dobbiamo guardare quando andiamo a vedere la riforma non è facile perché è un esercizio un po' che ha bisogno di qualcuno che spieghi un po' che ti fanno le cose nella legislazione però è indispensabile farlo per capire qual è la vera mostra in gioco di questo meccanismo di riportare al centro alcune competenze che le regioni hanno dilapidato questo non vuol dire che le regioni non abbiano comunque delle competenze proprio sulla sanità è chiaro che finisco è chiaro che nessuno pensa che esista un'azienda sanitaria unica a Roma che faccia tutto è evidente che resterà a livello regionale per forza e la costituzione la legge costituzionale lo conferma bisogna vedere però come se c'è la base dei criteri che soddisfano il principio di eguaglianza oppure no questa è la grande questione e penso che valeva la pena porre l'accento su questo si no va bene sono stati adottori nuovi temi per cui francamente proprio sulla salute e sulla questione di costi standard si potrebbe parlare a lungo perché più che guardare la costituzione la corte costituzionale bisognerebbe parlare un po' con i medici e vedere che lazza di bisoli vi danno per risparmiare in alcune situazioni o che lazza di siringhe vi danno perché per risparmiare si comprano senza nulla incontrare nei confronti del popolo della Repubblica Cinese però se si comprano le siringhe che vengono in portazione da paesi dove vengono fatte a basso costo non ci sta il silicone che consente o non ci sta o non ci sta no perché la pensione non si sta standard se non è stata applicata dal 2009 non credo che sarà applicata la costituzione non credo che questa riforma costituzionale problema della SEDAN problema enorme sulle regioni e questa è la battuta finale quello che è mancato in questi anni è stato un controllo effettivo della spesa perché è stato come tagli le chiave di casa un ragazzino che ha dimostrato di non sapere le tenere in tasca e questo però la riforma su questo non tocca niente perché mantiene la competenza in materia di salute programmazione e organizzazione della sanità significa che i soldi certo non la puoi va bene e i soldi non andano a spenderli loro se invece se fai delle disposizioni in materia di salute i principi sono stati molto spesso a disposizione in materia di salute i livelli essenziali delle prestazioni sono qualcosa indeterminato dallo Stato se non è stato incapace di determinare la sufficienza non è stata colpa della regione questo significa trasferire le responsabilità ma per questo il Lazio è commissariale appunto il Lazio è commissariale ma molte regioni non lo sono ci sono solo quattro regioni che hanno il deficit che hanno avuto l'obbligo del rientro e una soltanto c'è rientrata perché poi aveva pochi abitanti che hanno avuto che abbiamo quattro regioni in deficit quando la sanità è il 90% di filacchi dove finita l'autonomia regionale parliamo anche della corruzione dei partiti di sua sanità ma certo è la prima di un'idea la corruzione se stanno gli altri del debito solamente la corruzione è la corruzione la sanità e che ti è saluto prego prego ma non è 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 dobbiamo purtroppo avviarci alla conclusione perché abbiamo degli orari che dobbiamo rispettare le otto sono passate c'era un'ultima battuta sì professore non c'entra nulla la costituzione questo problema non c'entra nulla è la volontà politica se lei va e risolta la regione non gli danni i voti non gli danni i voti e il partito democratico non vince punto questo è il problema sono delle 20 capo iniziali questi sono tutti le idee di ma no ma questo è proprio l'uomo e troppo la sanità è che si partire la ok sul tema magari specifico effettivamente si vorrebbe parlare a lungo ma questo tempo purtroppo non ce l'abbiamo guardate veramente l'ultimissimo intervento da parte del signore e poi dopo dobbiamo veramente chiudere allora due questi di flash un po' naif io sono arrivato dietro con il programma allora vorrei capire se esiste un numero di miniature sul fatto che nel riferimento sono presenti questi diversi la letra elettorale la ritorna ci sono quesiti molto diversi ma non la letra elettorale non c'è però comunque etenogeneo il quesito vari quesiti perché viene deciso che si risponda a tutti questi quesiti oppure unico no oppure unico sì seconda cosa sento parlare del fatto che se non passa questo referendum il famoso treno che non passerà più è vero cioè se passa il no cioè se passa il sì è chiaro di modificare se passa invece il no qual è lo scenario cioè per vent'anni non ci potrà essere nulla io chiedo ai professori veramente di rispondere con una battuta da un minuto l'uno perché no no dunque come diceva il micro il mondo non finirà una famosa canzone che poi non è che abbia portato un gran bene all'Italia quando l'aveva adottata come inno per un certo campionato mondiale non finirà il mondo in nessun caso potrebbe essere molto più funzionale molto peggio secondo me la macchina pubblica per la se passa la vizia ma poi per la chi fa funzionare fa funzionare in qualche modo penso che forse un momento di riflessione su un'altra cosa su quel che si deve fare e porre l'attenzione e fare delle riforme puntuali da già un ammonimento che era avvenuto dopo nel 2006 sarebbe stato più opportuno c'era già un disegno di legge in avanzato per quanto ricordava le province la cosa è discutibile sotto vari punti di vista però ecco c'era un disegno di legge che ricordava soltanto il governo è stato abbandonato a se stesso poteva essere approvato quello scorporato non avrebbe toccato il resto delle disposizioni sarebbe stato più chiaro per gli elettroni però se il Parlamento non è stato messo nessun emendamento il Parlamento approvato la legge così com'era e se ancora prima il Presidente della Repubblica ha autorizzato la presentazione un disegno di legge così eterogeneo rimedi ormai io temo che non ce ne siano più e ci troviamo a votare su questa riforma con l'idea secondo me che non bisogna ritenere che se ci sta un aspetto positivo bisogna approvare tutto perché quello finisce per essere un grimandello per scassinare la cassaforte delle istituzioni due cose due cose allora i pilastri principali della riforma sono il cambiamento del rapporto di Stato-Regioni e Senato d'accordo? allora questi due si tengono insieme nel senso che se noi avessimo per esempio avuto due domande diverse uno per il Senato e l'altro per le regioni noi avremmo potuto avere la seguente situazione per esempio si poteva succedere che le regioni passava e il Senato non passava quindi avevamo un accentramento fortissimo le regioni non avevano voce al centro e c'era inoltre tutta questa riduzione di competenze regionali quindi l'esito sarebbe stato completamente diverso e molto di ragione uguale rispetto a quello che invece è previsto cioè c'è una logica che tiene la riforma su molte cose e quindi io non credo che se avessimo avuto la possibilità di spacchettare sarebbe stato molto sensato detto questo e poi sulle leggi costituzionali non è previsto dal requisito dell'omogeneità del requisito che invece la Corte Costituzionale richiede per il referendum approvativo non è previsto questo l'altra questione e quindi se il Parlamento ha approvato una legge costituzionale noi dobbiamo votare su una legge costituzionale io nel merito penso che in questo caso è meglio così anziché votare con domande diverse a seconda delle parti l'altra questione non è che succede sfracetico questo sono d'accordo con il professor Sigler non è che chissà che succede lo detto all'inizio noi tra un anno avremo il settantesimo della Repubblica forse le c'era all'inizio e penseremo che saranno passati 70 anni sia che vince il sì sia che vince il no non è questo per carità una cosa però è certa sul punto specifico del Senato io temo che se vince il no per i prossimi 20 anni sarà estremamente difficile 20-30 difficile dei senatori voteranno nuovamente qualcosa che io nell'arco dei 30 anni cioè i 30 anni delle riforme che riguardavano nel Senato ho pensato non avrei visto nella mia vita cioè una Camera che sopprime se stessa come è successo con questa legge costituzionale no? cosa? riduce se stessa riduce no no sopprime i senatori i senatori non vanno più è proprio una questione dei controlli quindi non ci vanno più là no non ci vanno ci vanno gli altri ci vanno persone che abbiamo eletto no ci vanno persone che abbiamo eletto perché i consiglieri regionali noi li abbiamo eletto come la miscina è già più la non sono loro e non li abbiamo eletto sono loro a parte il fatto che c'è conformemente alle scelte dei direttori quindi i direttori avranno voce anche sui senatori daranno la preferenza e quindi non è neanche vero non è neanche vero perché i direttori voteranno voteranno sul senato non è vero neanche questo come hanno però così era stato a questo punto a che servire più tanto se fanno le leggi le vogliono modificare la carta poi è sempre la carta e anche il presidente del consiglio il governo non l'abbiamo potuto approfondire però adesso anche perché anche perché l'abbiamo approfondito io l'ho letto l'ho letto l'abbiamo con tante cose che adesso scusate siete veramente molto indisciplinati questo lo devo dire indisciplinati indisciplinati ecco perché perché su questo tema in realtà la scorsa volta ci siamo molto io sono indisciplinati sono indisciplinati ci siamo diffusi era proprio l'argomento una delle parole ricorrenti una delle espressioni ricorrenti oggi è stata la corte costituzionale e la corte costituzionale il presidente della Repubblica verrà dedicato un incontro prossimo che approfondirà proprio questo aspetto quindi verrà la professoressa Raffaella Niro questa volta non essendo diciamo una tematica discottante sì discottante di partito come invece è stato questo e il precedente sul bigamiralismo verrà soltanto una docente che terrà una vera e propria lezione a beneficio degli studenti che nel frattempo abbiamo sterminato sono andati hanno finito l'autonomia ecco e noi adesso seguiremo il loro esempio e ci diamo appuntamento il 25 ottobre la prossima settimana stessa ora stesso luogo e ringraziamo ancora i due prossimi grazie a tutti e ringraziamo L'Italia, sveglia il suo